Reparti affollati, carenza di personale e medici costretti a chiedere le barelle in prestito alle ambulanze per far fronte alla drammatica situazione del pronto soccorso. La sanità ligure sembra sempre più in emergenza, complice l'ondata di influenza che sta colpendo un po' tutti in questo periodo. A complicare ora la situazione sono pure i parcheggi a pagamento istituiti dalla nostra ASL nelle aree ospedaliere nel tentativo di fare cassa. Cosa centrano i parcheggi direte voi con la situazione sempre più difficile della sanità? È presto detto per cercare di trovare nuove risorse i manager della sanità hanno deciso di realizzare i parcheggi a pagamento sia all'interno dell'ospedale Sant'Andrea che in quello di Sarzana. Per ora non conosciamo quanto i parcheggi contribuiscano alle entrate della ASL 5, anche perché una buona fetta della salata tariffa pagata dagli utenti finisce alla società che gestisce il servizio. Ma proprio per cercare di incassare il più possibile dai parcheggi degli ospedali fanno pure pagare anche i disabili. Una situazione al limite del paradossale emersa dopo la protesta di una cittadina che pur munita dell'apposito contrassegno invalidi per uscire dal parcheggio dell'ospedale di Sarzana dove aveva accompagnato una parente invalida al cento per cento ha dovuto pagare la tariffa per uscire. Il caso ha subito scatenato la polemica politica. La consigliera comunale di Sarzana Sara Frassini ha chiesto l'intervento del sindaco Cavarra per mettere fine a quella che ha definito una scandalosa situazione messa in atto da un ente pubblico come è appunto l'ASL. I disabili non pagano nei parcheggi a pagamento comunali ma l'ASL non fa sconti neppure a loro e a questo punto un intervento del manager dell'ASL 5 ci sembra doveroso se non altro per chiarire se è la società che gestisce il servizio ad aver assunto la decisione denunciata a Sarzana o se invece si tratta di una direttiva emanata dall'ente sanitario. Noi pensiamo che non saranno certo gli euro chiesti ai disabili per poter parcheggiare il più vicino possibile la struttura a cui devono accedere a risollevare le finanze dell'ASL. Giustamente la consigliera Frassini ha chiesto al sindaco Cavarra di dire chiaramente all'ASL di non lucrare sui disabili.